Senti, ma tu sei proprio sicuro di Duccio, sì? Sì, guarda, vedrai, ti stupirà. Scusa Duccio, qual è il campo? Qual è il campo? Quello do girama, Duccio. Ma non mi assillare, di breve. Duccio, Duccio, scusa. Lo stai bene non Alberto. Io stiamo. Senti, la cravatta, me la posso togliere la cravatta? Togli, mi togliere, stai, basta che poi è a recitare però. Duccio, sacca o maglione? Non lo so. Ma l'importante è l'asta o il radio, asta o il radio? Ma questa come parla? Io non capisco da dove proviene. Duccio, Duccio, è l'8401? Non lo so. Ma è raccontata con l'8300. Ma che minchia ne so, ma basta, dai. Alfredo, pure tu che cazzo vuoi? Certo, certo, è coffee break, signori. Ma come? Stai zitta.